e non mi rum, prima o l'ultimo, mi sottofravo E' buona abbonita guardo un figlio e una amica mia alle 8 stamattina perché si è portata bambina a scuola e ci ha visto già l'acqua che veniva nella Villanova e ci ha detto chiamate i vigili, i pompieri mi ha girato con i pompieri ma ci ha avuto brutto e il creatore è andato a scuola, lo personale non ci sta e perché non è assumita la gente? è una vergogna noi paghiamo tutto, pure l'arri che respiriamo fino a un po' ancora non è avvenuta la protezione civile stanno solo i pompieri alla scuola e non schifo, si prendono solo i soldi per la bonifica e ci mancano il personale dei pompieri e non schifo, noi paghiamo tutto queste tasse non c'è nessuno più, i bambini, le mamme sono venute a prenderli però adesso abbiamo il problema qui a San Mauro vediamo un po' non il mio, non il mio, non il mio, non il mio è stato visto a me